L'energia è il risultato di una delle più importanti rinascenze culturali della storia che con il suo portato di comprensione delle forze della natura ha aperto la possibilità per milioni di uomini per una vita materialmente e spiritualmente più feconda e una fruizione più diretta e una produzione di nuova arte e scienza. Energie per l'Italia del futuro a fare i conti con l'ambiente 2015. Grazie per la visione!